ragazzi è giunto il momento di caino vai vai andiamo tiriamo subito un cuore ce ne frega un cazzo questo è bello ottimo l'occhio in pratica attira viene a terra si mette a terra e attira i mostri a sé tutti lì così li concentra tutti in un punto e ti spari a tutti questo è il ganzo vabbè qui tanto non c'ho un cazzo non c'ho un cazzo ma perché devo fare queste cazzate guarda guarda come ho perso un cuore proprio di merda per furia per la furia perché ho furia andiamo sì con la madre ero proprio messo sì va bene sì io li apro questi ma ecco porca troia mi ci vuole pessima scelta guarda 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 ora non ho la chiave per entrare qua come sono stronzo sono veramente stronzo però una bomba guarda guarda ciao ragazzi ma entrate e salutate pure in chat unitevi a noi unitevi alla ventina bomba sono reale devo fare una prova perché se no non capisco no non ci incastravo un cazzo cosa cazzo voleva dire questo run oddio sto scoprendo tutte cose che non conoscevo però non è molto fortunato non dove cazzo era quel ragno di merda attenzione vediamoci subito poi devo prendere anche la bomba mmm buono belle queste lacrime andiamo 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 bianco portale demoniaco e ora ehi posso non muoio prendo muoio quindi niente questo giro non ci divertiamo questo giro non ci divertiamo non prendo niente questa si fa di cautela tanto abbiamo poco dai continuiamo cazzo la chiave devo andare abbiamo ritrovato al più presto una chiave ma vaffa chiave vabbè cuore blu non male non ci entro ci entro me da senti o me da senti o me da senti c'è sempre la scelta per se perdo cuori così a cazzo allora basket quale libro vuoi questo sui shoto questo che ti dà un famiglio allora facciamo una prova conosco bene il libro questo marrone che ti dava un famiglio random all'inizio del quadro cioè a partita ma non quello giallo ora proviamo quello giallo si vede a modo su cosa fa una live di conoscenza questa è una live di conoscenza il studio sono potente the moon capo io i tarocchi non mi ricordo mai cosa cazzo fanno mai eh io aspetto il boss che voglio un'altra stanza dorata non c'ho la chiave poison shot un po' parato che bene qui c'è la stanza del boss avrai bisogno di una c'ho altro da esplorare porca puttana non ho una chiave andiamo a fare il boss e vediamo che succede ora vediamo che cazzo fa porca puttana the moon cosa fa aspetta un po' the moon mi mette in una stanza segreta vabbè allora andiamo a vedere la stanza dorata se dice meglio il libro marrone allora si va a prendere il libro marrone era qui si era qui andiamo a prendere andiamo a prendere sto cappero di libro marrone vai e ora speriamo abbiamo un cuore se sopravviviamo abbiamo buone possibilità di di scamparla vediamo dai siamo potenti porca miseria non è che siamo potenti le lacrime fanno male fanno molto male fanno molto male andiamo si perché pensa che ti dà un potenzialmente run che potrebbe essere anche un si è vero è una run che vediamo un po' qui diamo i soldi a questa merda non ne voglia cento ha capiato buono te cosa mi dai basta non importa ottimo ottimo davvero Andrea se lagga io non ci faccio nulla l'importante è che laghi una volta ogni tanto se lagga una volta ogni tanto non posso fare niente succede l'importante è che sia sostenibile questo è quello che fa pipì oh buono oh che miseria ma io le provo tutte qui perché mi potrebbe da un cuore porca miseria peccata è lì comunque ma non c'è più bombe porca miseria però ho una chiave e la chiave si va qui e la cannuccia mi ricordo che era forte no 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 non possono mi ritengo il libro non preoccuparti ci mancherebbe sei stato tantissimo con me una piglia è chezza . oh mamma mia Sì, sì. Ci arrivo? Oddio! Mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Te ne vai proprio ora, porca mia testa. Ci siamo messi benissimo, siamo messi. E' anche a un buon punto della partita. Ma qui è dove sono adentrato prima. Io non mi ricordo se sono entrato in questa stanza. Allora, per essere sulle live basta che tu sia su TikTok o su Instagram. Abbiamo anche il canale Discord. Ora vi ho messo anche Telegram. Lo aggiungo poi fra indicazioni. Comunque sì, noi le live le pubblichiamo, non ti preoccupare. Grazie caro. Gussati anche qualche video su YouTube. Non ne vale la pena. Intanto ci pubblichiamo solo le cose migliori o le serie. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Oh, via. Eh, oh. Certo. Sì, sì. potresti non so se l'hai già fatto ma non ci ha fatto se condividi laico ci potresti dare una mano magari facciamo qualcun altro da che stiamo avendo anche culo potrebbe essere la run woman vediamo will of fortune questo dai tarocchi la luna trust no one accident ma questo è da come to fork in the road to take it ah queste sono le frasi stacchi nel luca un po' li sono sciogli mica li fai più questo poi sono sciogli io ci vado qua non mi interessa ce l'ha ecco vaffanculo ma questo l'ho bloccato non so se ho voglia di sprecare ottimo ne vale sempre la pena se ho voglia di sprecare per prendermi una chiave vabbè va una chiave in più prendiamola affanculo battaglia non lo voglio fa non so se ho voglia di sprecare per prendermi una chiave in più prendermi una chiave in più bombs are key vediamo ancora capire questo bombs are key a cosa si riferisce vai 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 a giocare a giocare anche io a basket con questo 10 a sbagliato sono esaltato vabbè sentire parlare il basket bravo bravo giochi a basket grande sport grande ma lo segui anche trovare l'nba dove cazzo ma dov'è è un casino capisci dove ti sposti vai a fare in culo vai oddio oddio io le uso vaffanculo mamma mia siamo forti eh siamo veramente forti è giusto il momento di diventare viola inoltre tengo anche la maglia di leo eh vabbè le bro james giusto the king giusto nei miei tempi c'era Michael Jordan sono di quegli anni eh sono messo bene se questa se non arriva alla fine mi girano le scatole per non dire il cazzo non so se le pillole non so se le pillole stelle per ora me le tengo ho tanti cuori ma sono forti anche con le lacrime fondamentale no non l'avevo visto aia entriamo non so quello che fa ma si che bello ragazzi di cervello di cervello anche 15 non so se prenderlo questo andrero piglio vediamo che c'è mi piace non so cosa ho fatto ma va bene e me le tengo e si va avanti oh ma che bastardo sono forte sono forte no no ci devo esplorare tutte quell'art vieni vieni ma scusa ma qui cazzo avevo nascito con il pezzo cuore bianco vogliamo andare qua questo non mi ricordo cosa fanno probabilmente lasciano qualcosa poison shots no poison shots mi ricordo mi ricordo mi ricordo andiamo ma si andiamo ma si bello bello come mi fa un cazzo quando faccio queste spronzze mi ricordo mi ricordo mi ricordo mi ricordo Allora, basta Guarda che bastardo Guarda che bastardo Ho perso un sacco di cuori No, no, io mi tengo questo Eh sì Prendo anche un'altra chiave Vaffanculo Guarda, no, io do il mezzo cuore Mi ritengo ben volentieri stretti Questa la lascio stare E vado così Buona madre Questa bastardo Cazzo Questa la dedico a basket E si va E si va avanti Cazzo No, questa la devo vincere Per forza La devo vincere per forza Questa Allora, lì comincia il casino Però siamo forti Io non li spreco cuori Non me ne frega Sono potente Non me la sento Non voglio andare a vedere Cosa c'è là Ci vado o no? Ci mancherebbe Non so Io non rischio Guarda Ora faccio il cappone Tanto sono forte Puttana Eva Che cazzo c'era Poi vedi Basta così poco Basta così poco ora Tutto 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 un casino Ma dove cazzo Ma vaffanculo vai Ma vaffanculo Bisogna staccarmi Bisogna staccarmi Staccarmi Bisogna staccarmi Bisogna staccarmi Riflettere Ambolino Stai Stai Rieccola Stavolta l'hai preso nel culo Mamma mia Mamma mia Si vede Io l'ho vista La telecamera L'ho vista Mi Mi Rieccola Di Ma Mi no continuiamo l'esplorazione ma non so se faccio bene a questo livello tanto non lo so va bene ma continuo dai lo faccio bisogna stare il più lontano possibile mezzo cuore si prende uuuu bel perfetto bastardio cos'è questo? via proviamolo non lo so via vediamo che è si si me ne frega un cazzo me ne frega un cazzo non voglio spiecare cuore vai possiamo andare mamma mia si vede male ora è il green screen come è mai ciao grazie ci vediamo presto grazie 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 davvero è un piacere questo che cazzo fa no ho sbagliato va bene portale demoniaco questa mi dà questo lo prendo no ma io prendo anche quello io non so lo prendo anche lui io vado io questo qua quello non so che cazzo fa grazie caro vediamo questo forse qua non serve oh la mettiamo ma stava fatto via io non lo prendo quello perché mi sembra aia oh no niente niente oh madonna andiamo andiamo aia 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 Dai dai Il pigiamino è fortissimo Mamma mia che culo Che culo questa partita La luce davanti Forse è Ovviamente vediamo se ci ho culo Adi 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 Allora io ho Per esempio ora ho 21 monete Se trovo un negozio Ce le metto tutte C'è il negozio qui Si va a cercare il negozio Eeeh Tanta roba eh Poi ho trovato anche il pigiamino Il pigiamino ti da 5-6 cuori blu eh Cerco un negozio Che dici? Guarda questa cazzo di Perché qua Diciamo così Ma è vero eh Vado? Quella è la fine eh Se io apro il baule Ti fa vedere il finale Tra l'altro di Lazaro Non l'ho nemmeno mai visto Perché ogni personaggio Ha un suo finale Faccio che qui non c'è i negozi eh Non lo so Boh Dai No questo è L'arcade Non ci intero Eeeh Di qua Non ci intero Dove ha quanta roba Mamma mia Hai visto il troppo La run Della vita eh Ma non prendo un cazzo Io avevo soltanto Bisogno del negozio 45 monete Ma adesso Si prende nel culo Vai Vediamo un po' Il finale Si trasforma in un personaggio Eden Eden abbiamo sbloccato Ci abbiamo giocato Ti ricordi? La rica Lazaro Si è Gettato nel baule E si è Trasformato In Eden Ti ricordi Ve lo piondo Che ride sempre Bellissimo Grazie a tutti